Nella lezione precedente abbiamo definito le affinità. Abbiamo visto come si usano per trasformare i punti e i luoghi geometrici e abbiamo discusso come individuare alcune caratteristiche di queste trasformazioni, come il rapporto di affinità, la conservazione o meno dell'orientazione e gli elementi uniti. In questa lezione e nella prossima studieremo altre proprietà e analizzeremo delle classi particolari di affinità. Cominciamo dalle proprietà generali. Ti faccio osservare, prima di tutto, che ogni trasformazione geometrica, intesa come funzione dall'insieme dei punti del piano in sé senza altre condizioni, trasforma figure incidenti, cioè che hanno punti in comune, in figure nuovamente incidenti. Questo perché se un punto P appartiene sia alla figura F1 che alla figura F2, allora la sua immagine F di P appartiene alle figure immagini F di F1 e F di F2, per definizione di immagini di una funzione. Potrebbe però capitare che due figure immagini abbiano un'intersezione non vuota, nonostante le figure che vengono trasformate in S non siano incidenti. Un esempio di questa situazione è dato dalla proiezione ortogonale su una retta R. Nella figura i segmenti A, B e C, D non sono incidenti, ma le loro immagini A'V' e C'D' hanno per intersezione segmento A'D'. La causa di questo fenomeno è la mancanza di iniettività della proiezione ortogonale. Infatti, tutti i punti P di non qualsiasi retta S perpendicolare a R hanno per immagine il punto P' di intersezione tra R e S. Se invece la trasformazione geometrica è iniettiva, la loro S conserva la proprietà di incidenza, cioè due figure sono incidenti se e solo se lo sono le loro immagini. Le affinità sono trasformazioni geometriche invertibili, quindi sono iniettive e pertanto conservano l'incidenza delle figure. Di più, dato che le affinità conservano l'allineamento dei punti, cioè trasformano rette in rette, esse conservano anche il parallelismo delle rette. Infatti, se le due rette sono parallele, allora anche le loro immagini devono esserlo a causa della conservazione dell'incidenza. Un'altra proprietà delle figure che può essere conservata o meno è l'area. Un'affinità è detta equivalenza se trasforma figure in figure ad S equivalenti, cioè che hanno la stessa area. Un'equivalenza è dunque un'affinità che conserva l'area. Dato che il rapporto tra l'area della figura trasformata e quello della figura da trasformare è uguale al rapporto di affinità, l'affinità è un'equivalenza se e solo se il suo rapporto di affinità è uguale a 1. Cioè se e solo se il determinante AB' meno A'B della matrice dei coefficienti di x e y è uguale a più o meno 1. Supponi, per esempio, di voler determinare tutte le equivalenze di equazioni x' uguale a x più by più 1, y' uguale a cx più y che hanno come punto unito P di coordinate 1, 1. Devi imporre tre condizioni, delle quali le prime due corrispondono a richiedere che l'immagine di P sia uguale a P. Basta sostituire A x, y, x' e y' 1 nell'equazione dell'affinità. Mentre la terza condizione è la condizione di equivalenza, cioè che il determinante sia uguale a più o meno 1. Ricavando B dalla prima equazione, C dalla seconda e sostituendo nella terza otteniamo che A deve essere uguale a più o meno 1. E quindi ci sono due equivalenze di quel tipo, le cui equazioni sono x' uguale a x meno y più 1 y' uguale a y e x' uguale a meno x più y più 1 y' uguale a 2x meno y. Per fare un altro esempio, possiamo chiederci quali affinità dello stesso tipo di quelle dell'esempio precedente e che hanno come elemento unito la retta di equazione y uguale a x più 1 sono equivalenze. Anche in questo caso servono tre condizioni e la terza, la condizione di equivalenza, è la stessa del problema di prima. Le altre due servono a richiedere che la retta y uguale a x più 1 sia unita. Invece di trasformare questa retta con l'affinità data, che richiede il calcolo dell'inversa, la trasformiamo secondo l'affinità inversa. Facciamo così per due motivi. Primo, perché se una retta è unita rispetto a un'affinità, è unita anche rispetto all'inversa. Secondo, perché in questo modo possiamo usare l'equazione della nostra affinità per effettuare la trasformazione, senza dover calcolare l'inversa. Dunque, l'equazione della retta trasformata secondo l'affinità inversa si ottiene sostituendo a x più by più 1 al posto di x e cx più a y al posto di y nell'equazione della retta. Troviamo l'equazione cx più a y uguale a x più by più 2 che possiamo riscrivere nella forma a meno b per y uguale ad a meno c per x più 2. Dato che la retta deve essere la stessa, questa equazione deve essere equivalente a y uguale a x più 1. Così, confrontando i termini noti, deduciamo che deve essere ottenuta da quella moltiplicando i due membri per 2. In altre parole, a meno b deve essere uguale a 2, come pure a meno c. Ricavando b e c dalle prime due equazioni del sistema e sostituendo nella terza, otteniamo, lascia a te i dettagli del calcolo, che le due affinità che soddisfano i requisiti hanno equazioni x' uguale a 3 quarti x meno 5 quarti y più 1 y' uguale a meno 5 quarti x più 3 quarti y e x' uguale a 5 quarti x meno 3 quarti y più 1 y' uguale a meno 3 quarti x più 5 quarti y. Abbiamo visto, poi, che le affinità possono deformare le figure. Un esempio in questo senso che abbiamo discusso è quello delle dilatazioni, che possono trasformare circonferenze in ellissi e viceversa. Un'affinità si chiama similitudine se conserva le forme delle figure, cioè se conserva gli angoli e le proporzioni tra i segmenti. In virtù del terzo criterio di similitudine, secondo il quale due triangoli che hanno i lati ordinatamente proporzionali sono simili, e quindi hanno anche gli angoli ordinatamente congruenti, se un'affinità conserva le proporzioni tra i segmenti, allora conserva anche gli angoli, e quindi è una similitudine. Vediamo, allora, quali condizioni sui coefficienti dell'equazione dell'affinità corrispondono alle similitudini. Dato un segmento AB e il suo trasformato A'B', si tratta di richiedere che il rapporto tra la lunghezza di A'B' e quella di AB sia costante indipendentemente dal segmento non nullo AB scelto. La lunghezza di AB è la radice quadrata di xA meno xB alla seconda più yA meno yB alla seconda, e una formula analoga vale per A'B', però dobbiamo determinare le coordinate di A' e B' per mezzo dell'equazione dell'affinità. Otteniamo che x di A' è uguale a A per x di A più B per y di A più C. y di A' è uguale ad A' per x di A più B' per y di A più C'. x di B' è uguale a A per x di B più B per y di B più C. e y di B' è uguale ad A' per x di B più B' per y di B più C'. Pertanto, la lunghezza di A'B' è la radice quadrata di A per xA meno xB più B per yA meno yB alla seconda più A' per xA meno xB più B' per yA meno yB tutta la seconda. Elevando A quadrato parzialmente raccogliendo assieme i due termini dello stesso tipo di questa espressione, otteniamo radice quadrata di A alla seconda più A' alla seconda che moltiplica xA meno xB alla seconda più B alla seconda più B' alla seconda che moltiplica yA meno yB alla seconda più 2 che moltiplica AB più A'B' per xA meno xB per yA meno yB. Se il rapporto tra le lunghezze di A'B' e AB è costante, allora anche il quadrato di questo rapporto deve essere costante. Passare al quadrato permette di sbarazzarci delle radici quadrate. otteniamo quindi che A alla seconda più A' alla seconda che moltiplica xA meno xB al quadrato più B alla seconda più B' alla seconda che moltiplica yA meno yB al quadrato più 2 volte AB più A'B' che moltiplica xA meno xB per yA meno yB tutto quanto fratto xA meno xB alla seconda più yA meno yB alla seconda deve avere sempre lo stesso valore qualunque siano i valori di xA, yA, xB e yB. In particolare se A e B hanno la stessa ordinata yA è uguale a yB e questo rapporto diventa uguale ad A quadro più A' alla seconda mentre se A e B hanno la stessa scissa cioè se xA è uguale a xB lo stesso rapporto diventa uguale a B alla seconda più B' alla seconda Se il rapporto deve rimanere invariato qualunque siano i punti A e B allora bisogna che A alla seconda più prima alla seconda sia uguale a B alla seconda più B' alla seconda Indichiamo con K alla seconda questi valori uguali allora il rapporto deve essere uguale a K alla seconda per ogni valore di xA, yA, xB e yB Possiamo riscrivere il rapporto sostituendo K alla seconda al posto di A alla seconda più A' alla seconda e di B alla seconda più B' alla seconda raccogliendo K alla seconda separando la frazione in due parti e semplificando otteniamo che il rapporto è uguale a K alla seconda più 2 per AB più A'B' per xA meno xB per yA meno yB tutto fratto xA meno xB al quadrato più yA meno yB al quadrato ma tale rapporto deve essere uguale a K alla seconda qualunque siano i punti A e B quindi deduciamo che AB più A'B' deve essere uguale a 0 Riassumendo un'affinità di equazione x' uguale a x più y più cy primo uguale a primo x più B' y più C' è una similitudine se e solo se A alla seconda più primo alla seconda è uguale a B alla seconda più B' alla seconda e AB più A'B' è uguale a 0 Il rapporto di similitudine K da non confondere con il rapporto di affinità è il rapporto tra i due segmenti corrispondenti qualsiasi e risulta essere uguale alla radice quadrata del rapporto di affinità in quanto nelle similitudini il rapporto tra le aree è uguale al quadrato del rapporto tra i segmenti Vediamo quali sono le conseguenze di queste condizioni per le equazioni delle similitudini Supponiamo che A' sia diverso da 0 Si ottiene lo stesso risultato quando A' è uguale a 0 perché risulta necessariamente B' diverso da 0 e si ragiona in modo analogo Dalla seconda condizione ricaviamo che B' è uguale a meno B per A fratto A' E sostituendo nella prima eliminando il denominatore e raccogliendo i fattori comuni otteniamo A' alla seconda che moltiplica A' alla seconda più A' alla seconda è uguale a B' alla seconda che moltiplica A' alla seconda più A' alla seconda Dato che A' è diverso da 0 anche A' alla seconda più A' alla seconda è diverso da 0 quindi risulta che A' alla seconda è uguale a B' alla seconda per cui A' uguale a B e allora B' uguale a meno A oppure A' uguale a meno B e B' uguale ad A in entrambi i casi A' più I' uguale ad A' più B' quindi K' è uguale a radice quadrata di A' più B' riassumendo, le equazioni di una similitudine sono di due tipi x' uguale a x meno by più cy' uguale a bx più a y più c' dove ho cambiato il segno di B per comodità è l'equazione di una generica similitudine diretta con un rapporto di similitudine uguale alla radice quadrata di A' più B' mentre x' uguale a x più by più cy' uguale a bx meno y più c' è l'equazione di una generica similitudine indiretta con lo stesso rapporto di similitudine un particolare tipo di similitudine è l'omotetia che corrisponde a una dilatazione omogenea cioè dello stesso fattore in entrambi le direzioni se il centro dell'omotetia è il punto C di coordinate x0 e y0 e il rapporto di similitudine è k allora l'equazione dell'omotetia è x' uguale a k per x meno x0 più x0 y' uguale a k per y meno y0 più y0 puoi verificare facilmente per esercizio che il centro C è l'unico punto unito dell'omotetia se k è diverso da 1 e che con la stessa condizione le rette unite sono quelle che passano per il centro se invece k è uguale a 1 ogni punto è unito così la trasformazione lascia invariate tutte le figure e si dice trasformazione identità una trasformazione geometrica è un'isometria se conserva la congruenza cioè se trasforma figure in figure ad esse congruenti un'isometria dunque conserva l'ampiezza degli angoli e la lunghezza dei segmenti e quindi è una similitudine con rapporto di similitudine uguale a 1 di conseguenza un'affinità è un'isometria se e solo se a alla seconda più a primo alla seconda è uguale a b alla seconda più b primo alla seconda è uguale a 1 e a b più a primo b primo è uguale a 0 studieremo le isometrie con maggior dettaglio nella prossima lezione per ora ti faccio osservare che ogni similitudine può essere descritta come composizione tra una omotetia e una isometria opportune grazie a tutti